Ciao a tutti ragazzi sono DisaGiovi e oggi siamo qui in questo primo video delle sponsorizzazioni come avevo detto anche se è passato un tanto tempo da quando l'ho detto mancanza di tempo scusatemi ragazzi e non so se porterò sempre questa cosa perché non è che tanto giusto sì è giusto che faccia crescere anche gli altri però diciamo vediamo allora qui abbiamo un paio di canali che vogliono essere sponsorizzati da me non li ho visti tanti attivi però questa volta ci posso sopra però almeno qualche volta li voglio vedere iniziamo dai pro gamer che è nella kiev iniziamo da lui che è l'unico quello più attivo di tutti allora il pro gamer pro gamer allora 55 iscritti abbiamo fatto anche delle collaborazioni abbiamo fatto a volte nel suo a volte nel mio fa video di gta 5 altri che non ne ha fatto ah ha fatto butterfield e niente altro cioè gli ti ha il batte figli e vedete qui questa è la gara quella che abbiamo fatto insieme il video insieme questa qui e vabbè purtroppo io non la so non la poteva far sentire nel video vabbè vedete oh per ora la connessione un po' di se il video si blocca per questo comunque diciamo che ti do un consiglio al pro gamer devi migliorare un po' la qualità perché soprattutto in questo video qui non si vede anche perché c'era forse la luce dal sole che secondo me devi migliorare in quelli scolari per il resto vabbè passiamo al secondo allora ragazzi il secondo che sponsorizzare vediamo vediamo non ci ne è tante sponsorizziamo phoenixgold01 vediamo questo youtuber quanti iscritti ha 99 iscritti vero ne manca uno proprio per arrivare a 100 ne manca spero che ti possa aiutare per arrivare a 100 con questo video allora mi stiamo dicendo fa video di minecraft poi cosa abbiamo GTA 5 online il gioco preferito e poi abbiamo quante cose abbiamo qui contest li fa pure non so di che cosa però li fa e vabbè tanti altri giochi anche se non conosco fa five night is freddy tanti giochi vediamo vediamo un video l'ultimo che ha fatto qui ok ragazzi questo è il video di phoenixgold quello miglioriamo la casa di minecraft scusate a me il mio compiutore mi fa un po' cacare mi fa tanto vabbè video di minecraft non mi sembra che deve migliorare qualcosa a me cioè questo video mi sembra ottimo io non parlo proprio perché i miei video di tua età mi sono granché perciò va bene passiamo al terzo allora ragazzi il terzo che andremo a sponsorizzare si chiama dex lol youtube andiamo a vedere questo canale ehm vediamo allora ragazzi il terzo che vi porto il video ma aspettate un altro po' ok è a 66 iscritti ehm fa video vediamo 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 i video che fa what the fuck ehm minecraft così a casa così what the fuck andiamo a vedere mi incuriosisce il video what the fuck vediamo il video what the fuck ma davvero what the fuck ma che cazzo è successo la sabbia tutta si è andata ok ragazzi il quarto canale si chiama i gamers l'avevo già detto purtroppo a 19 iscritti ehm questo canale qui di questo dovrebbe essere in tanti dovrebbero essere però diciamo quanto ne ho capito è uno solo che cioè gestisce questo canale fa video di minecraft ehm un video solo di gta quasi l'ha fatto ehm attendate lo sanno si chiama e poi l'ultimo video che ha fatto è stata la sua intro ehm vediamo faccio vedere il video di quelle skywars allora questa qui è la sua intro il mio computer si ferma vabbè stavo sperando qui le cose di minecraft comunque per il video bell'intro eh i video che fa con la musica per ora credo eh scusate se si vede male ma è la mia connessione che non iscrivetevi ehm c'è il canale dei games se volete iscrivetevi va bene ragazzi questo video si finisce qui se volete essere sponsorizzati mi raccomando nei commenti hashtag sponsorizzami ma almeno vi chiedo qualche volta che siete presenti su tutti i miei video per farmi capire che ci siete va va bene il video si conclude è qui e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti